Bella raga Come andiamo? Nerf Jazz Più totale Nerf Fusion Jazz Più totale Bella Marco Oggi ho passato qua a Gallo Sanger ragazzi Qui a casa Mio padre Purtroppo non è qua tra noi ancora E ha dovuto tornare a casa Non potevamo fare live Di cucina No non ha cucinato Abbiamo mangiato Burger King Bella Volpe sono Solo di passaggio Purtroppo devo guardare American Psycho con la femmina Beh un gran film almeno Ti abbraccio fratello Un film ora tra l'altro che è stato Come dire Come si può Dire no? È stato Spammato in una maniera fuori di test È stato insomma Molto molto gettonato Nell'ultimo periodo American Psycho 2 No niente del genere Però si American Psycho Con tutti i Reels E Tik Tok Rob e Cos E Grindset E Sigma Però Pure Pure Christian Bale ha detto che si è cacato la minchia di questa roba Che è un po' un peccato eh Perché una volta Mi divertivo molto a mandare gif di Patrick Bateman Su gruppo Telegram Su Group Chat Adesso Non è più Lo stessa cosa Capisci no? Ovvio Serfo lo sappiamo bene Lo sappiamo molto bene Sì se no Lo so Lo so Cioè cosa poi Lo so Non lo so neanche cosa so in questo caso Corpo di nebbia Torniamo a noi comunque Fammi mettere Hip Hop Del ragazzo femmineo E' un meme morto Esatto Adesso Sigma Male Grindset American Psycho Peaky Blinders Dumb Share Non esiste più questa roba qua Meme morto Ufficiale raga Smettete di pubbliche Reels a riguardo Per cortesia Bella Iru Sì sono qua Non va a me Ma sì sono in live Ammo Sono qua live diretta Adesso l'ha fatto ridere Mai un secondo Perché a molti è arrivato Quando già non era più divertente Sì sì i Reels sono infiniti No Biden Shwebstar Non è ancora un meme morto Infatti Ragazzi Finchè potete Godetevi i video Dei presidenti Con le voci Modificate Con le voci sintetizzate Perché stanno già iniziando a uscire Le versioni Merdose Di questa roba Ma merdosissima Che non fanno ridere neanche Se ti puntano una pistola in testa Quindi state attenti Bisogna Cioè stare molto attenti adesso C'è il rischio di farmi dire tutto Domenica è giorno di Necrologio Dei meme morti Mi piace questo format No no Boh Non è Voluto Però è vero Sì sono Stiamo facendo un po' di morti Stiamo tagliando un po' di teste qua